vedo qualcosa, ecco qui lo prendo io hai qualcosa sul viso? qui ecco di qui ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi 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 voglio dedicare questo video ai visual triggers quindi ai trigger visivi per chi non sapesse cosa sono sono appunto quelli trigger che si basano sul senso della vista e non solo sull'udito io sono messa per questa occasione anche queste unghie finte in modo un po' particolare sono praticamente a clip però secondo me son carine perchè voglio fare anche un po' di scratch sul tuo mondo ok quindi cominciamo 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 subito voglio fare un po' di tapping sul tuo viso cominciamo cominciamo come mai il tuo viso? fa questo rumore fammi provare qui è veramente strano, fammi provare l'ultima volta non è vero Grazie. E' veramente stranissimo, dovrei fare magari un esame approfondito, aspetta un ottimo, vedendo questa ampollina, io vado a guardare bene il tuo viso a vedere perché avevi questo strano rumore. Grazie. Guardiamo qui, guardiamo qui. Guardiamo qui, guardiamo qui. Guardiamo anche con l'altro. Guardiamo qui. è arrivata l'ora di presentarti un trigger che non ti avevo mai mostrato secondo me hai qualcosa sul viso? aspetta preso lo fa vedere qui buono aspetta fammi provare lo fa vedere un attimo e eccolo qui aspetta e qui e qui e qui me lo metto 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 qui fammi vedere adesso io lo do a te ok aspetta aspetta ok io lo do a te aspetta aspetta ecco te ecco te aspetta 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 a te vuoi assaggiare? aspetta ecco te ecco te ecco te ecco te ecco te aspetta aspetta prendo una cosa prendo un'altra ok adesso aspetta che prendo qui ok perfetto ma mi prendo un'altra cosa da qui ecco qui qui ecco qui qui ecco qui ecco qui aspetta aspetta che adesso ho qualcosa tra i capelli eccolo qui dillo te aspetta 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 ecco qui dillo te non lo voglio aspetta aspetta eccolo qui non voglio anche questo ok adesso guardo un attimo un po' i capelli aspetta 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 che vedo qualcosa eccolo qui me lo prendo io aspetta 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 eccolo qui me lo prendo io qui e lo prendo io qui me lo prendo io qui me lo prendo io qui me lo prendo io e qui vedate ecco vedate ok spero ti sia piaciuto anche questo trigger è stato molto divertente dimmi se hai delle idee per come potremmo utilizzarlo anche in dei roleplay chi lo sa carini no? però aspetta un attimo ma chi che cosa è successo l'autofaccia? aspetta ma che cosa? aspetta che cosa è successo? aspetta hai un qualcosa sul viso? aspetta 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 che non riesco ancora a vederti non riesco a vederti tolgo un po' tolgo un po' qui aspetta tolgo un po' qui e qui e qui ecco di qui ma cos'è che avevi in faccia? aspetta ma ti torna tutto sopra aspetta un attimo aspetta un attimo che riprovo a togliertelo tanto è qualcosa qui allora guardiamo un attimo qui mamma mia che casino ma come hai fatto? ok vuoi vedere fammi vedere qui fammi vedere qui qui fammi togliere qui fammi vedere ok ecco di qua finalmente pensavo quasi di averti perso io adoro il trigger della ragnatela non so se si ha capito qualcosa io non vedevo niente però non vedo di vedere come è venuto spero si vede qualcosa ma secondo me è bigchissimo biglissimo adesso vorrei applicarti un po' di make up ok cosa ti piacerebbe metterti? ti piace il mio blush? ma certo te lo metto subito aspetta mi tolgo i capelli ancora un po' di ragnatela tolgo i capelli di mezzo ok ecco qua aspetta ma si tanto ne ho un sacco ok ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua cosa aspetta? prendo ancora un po' metto un po' sul tuo viso ok adesso sull'altra mancia ok ok ti piace anche il mio brato? non c'è problema chiedi gli occhi ok te ne applico un pochino anche 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 su questa parte te ne applico un po' delicatamente molto sobrio come ce l'ho io ok cosa? anche un po' di tinta per sopracciglia ok aspetta e qui? l'altra parte l'altra parte ecco qua ok bene guarda che stai veramente bene con questi colori comunque si si sono proprio belli ti stanno proprio bene ok perfetto adesso secondo me visto che ti piace questa cosa vorrei fare anche un po' di mirror brushing ok quindi ti faccio vedere prima la zona in cui ti farò brushing e dopo te lo faccio ok partiamo dalla fronte da questa parte della fronte e faccio tutta la linea dei capelli ok ed ecco qua molto delicatamente sentire la fibra del pennello sulle piccole della pelle e adesso passiamo alla parte corrispondente ok da metà pronte fino alla fine delle sopracciglie e ancora un po' ok ok e adesso a te ecco qui adesso il naso anzi da qui fino alla punta del naso da qui fino alla punta del naso da qui fino alla punta del naso fino alla punta del naso fino alla punta del naso ok vado su di te fino all'orecchia dalla punta dalla punta fino al naso e adesso particolarmente vado su fino all'orecchia in questo modo questo è super rilassante amore qui se ne dica proprio tanto proviamo fino all'orecchia dal mento fino all'orecchia dal mento fino all'orecchia dal mento fino all'orecchia e dall'altro forto al mento fino all'orecchia e seguo tutto tutto il viso in questo modo, molto delicato e lo faccio su di te talmente vado su talmente vado delicata, delicata, delicata su talmente vado delicata, 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 su tagliamo alto, su moltoissimo, lento, 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 lento su e ora dal naso guancia naso naso, guancia e dall'altra parte naso, guancia molto bene io spero che tu sia riuscita a chiudere questi splendidi occhietti con questi visual trick uno più rilassante dell'altro e io penso proprio penso proprio penso proprio 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 sia giunta l'ora di di abbassare le luci che e accurate 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 una buona buona notte una buona notte sogni d'oro sogni d'oro good night sweet dreams sweet dreams buona notte buona notte dulce sueños dulce sueños buona notte buona notte vede, show your rêve show your rêve show your rêve good night good night good night le canocht le canocht le canocht buona notte i piccoli pasticcini al mango un bazzone calispera supe ee catalan no chesped couper chesped chesped